ebbene eccoci qua nel circuito di almeria almeria alle mie spalle almeria no c'è giacomino vai via vai via che devo fare almeria almeria si che sembra quello che c'era la rete 4 che non ci mette il coglione camera allora siamo qua al circuito di almeria c'è un freddo bestia perché sembrava sì siamo sul della spagna ma siamo a 600 metri su un altopiano chi ha il telefono sto registrando dai cazzo allora c'è un freddo del signore perché ci saranno adesso sono le quasi sono le 10 e mezza circa e ci saranno 12 13 gradi 14 a dir molto comunque si sta da dio la pista tortuosa tutti i sali scendi pista molto tecnica però divertente allora io ho provato la moto nuova quella di riccardo e in fondo al rettilineo ho tirato un po troppo ragazzi io non m'aspettavo che andasse così forte ragazzi è un missile mi sono trovato praticamente a fine rettilineo che è un po di cacca ho dovuto piantarmi sui freni se no tiravo dritto poi quasi tiri dritto ti trovi nel deserto della sierra alla miglia praticamente siamo vicini alla sierra nevada infatti nelle vicinanze del circuito ci sono gli studi televisivi dove sergio leone giravi suoi western comunque niente adesso andiamo a vedere un po le moto facciamo un'inversione di un'inversione di volevo fare un'inversione di ma non so non inverso niente perché allora adesso andiamo a vedere aspetta aspetta eccoci qua le nostre moto le nostre moto eccole qua questa è la mia la bestia la bestia quant'è la bestia la bestia è una bestia assentata di sangue questa è quella di giacomino poi vi aggiorniamo sulle altre cose ma per adesso per adesso ciao e basta ciao ciao